Che cosa succede se navigando in rete troviamo un dataset che sembra essere messo lì proprio per essere utilizzato liberamente ma non è accompagnato da una licenza d'uso che spiega quali sono i termini d'uso? Purtroppo in questa situazione che in realtà è molto molto diffusa proprio perché non tutti gli utenti conoscono il funzionamento delle licenze open, delle licenze d'uso, noi dovremmo astenerci in teoria dall'utilizzare perché in mancanza di un espresso consenso da parte titolare dei diritti si ricada nel copyright by default, quindi tutto è sotto copyright, tutto ciò che trovo che non ho fatto io l'ha fatto qualcun altro e quindi questo qualcun altro tendenzialmente potrà vantare un diritto, un copyright su questo contenuto. Non vale la regola che se l'ho trovato in rete allora è di tutti, è libero, non è così, mi raccomando non cadiamo in questa leggendona metropolitana. Però ci sono situazioni in cui in effetti sembra che questo dataset sia stato messo lì apposta per essere liberamente utilizzato. Succede molto spesso con i siti web delle pubbliche amministrazioni che espongono molti dei loro dati e sembra quasi un invito ai cittadini a riutilizzare questi dati liberamente, però manca la licenza. A volte perché se ne dimenticano, a volte perché non hanno le competenze al loro competenze per, diciamo, completare il percorso di licensing, scegliere la licenza corretta, metterla sul sito, che in realtà è banale però appunto richiede un minimo di competenze, a volte perché, come dire, ci giocano, ci marciano e lasciano l'incertezza, perché l'incertezza in quel caso, diciamo, va a loro favore, ok? Per cui l'utente, non sapendo bene cosa può fare, si astiene, ok? Quindi sono quasi sempre situazioni in cui la pubblica amministrazione mette fuori il dato perché è obbligata a metterlo fuori, ma non ha davvero piacere a che gli utenti lo utilizzino liberamente, i cittadini lo utilizzino liberamente. Ecco, in quel caso il legislatore italiano si è inventato un, perdonate il termine, però un accrocchio giuridico che viene chiamato open by default, che troviamo nell'articolo 52 del codice amministrazione digitale, che è una delle norme dei testi giuridici che solitamente si fanno, si vanno a studiare, a richiamare quando si parla di open data, e questo articolo dice che sostanzialmente se la pubblica amministrazione che espone il dato, che pubblica il dato, il dataset più propriamente, si dimentica e mette le classiche virgolette con le mani, si dimentica di mettere una licenza e quindi in mancanza di un'indicazione specifica, i cittadini possono utilizzare liberamente questo dataset senza dover chiedere permesso perché possono comportarsi come se una licenza sia, diciamo, stata messa correttamente dalla pubblica amministrazione. Ok? È un po' un accrocchio perché? Perché ovviamente sarebbe meglio avere la licenza perché la licenza è molto più precisa, dettagliata, spiega quali sono i termini d'uso ed è chiara per tutti perché essendo quasi sempre una licenza appunto Creative Commons o simili, si tratta di licenze universalmente conosciute e quindi anche qualcuno che arriva da un contesto che non è quello italiano, che trova questo dataset, può capirne qual è il margine d'azione che lui ha e può riutilizzarlo. Ok? Quindi si sono inventati questo open by default, per cui sostanzialmente in mancanza di licenza noi cittadini possiamo far finta che la licenza ci sia e possiamo trattarli come se fosse una licenza sostanzialmente ccby, cioè l'unico obbligo è quello di citare la fonte, ok? Che sarebbe la cosa più sensata. Perché? Perché parliamo di dati pubblici, dati che sono esposti dalla pubblica amministrazione non perché ha fatto una scelta strategica, ma perché è obbligata a pubblicarle, cioè perché ha un onere di legge, perché in quanto pubblica amministrazione ci sono delle norme specifiche che la obbligano a disporre quel dato e quindi, come dire, non c'è dubbio del fatto che quel dato debba essere messo fuori e quindi sarebbe anche corretto che la pubblica amministrazione nel farlo lo accompagnasse da una licenza open come ormai direttive europee sull'open data, le varie public sector information directive o le norme sull'open data, le linee guida sugli open data ministeriali, quelle italiane, del governo italiano che ormai sono in circolo da un bel po' di anni, però purtroppo ancora adesso molte pubbliche amministrazioni o non hanno capito il concetto oppure, come dicevo prima, vogliono far finta di non aver capito e quindi preferiscono lasciare l'incertezza, allora ecco, il legislatore ha disinnescato questa situazione di incertezza dicendo ai cittadini potete far leva sull'articolo 52. Rimane sempre il concetto di accrocchio che vi dicevo prima, perché? Perché è un giro molto complesso. Avremmo potuto risolvere, cioè il legislatore avrebbe potuto risolvere il problema molto più semplicemente andando a toccare un altro articolo che però sta in un'altra legge che io conosco molto meglio del codice di amministrazione digitale che invece è la legge sul diritto d'autore, all'articolo 5, l'articolo 5 si occupa proprio del, diciamo, public domain by law, del pubblico dominio per legge, c'è tutte quelle situazioni in cui dei contenuti ricadono automaticamente nel pubblico dominio e quindi il diritto d'autore non si applica to cure, non si applica del tutto, non c'è neanche bisogno di una licenza. Vi faccio il classico esempio, i testi delle sentenze dei tribunali, dei giudici, delle corti, no? Sono documenti che sono, come dire, dei testi letterali a tutti gli effetti perché sono scritti, a volte ci sono dei ragionamenti complessi, quindi sarebbero delle opere creative, ma non rientrano sotto il diritto d'autore, non ricadono sotto il diritto d'autore perché c'è un articolo che dice che quelli, in quanto atti ufficiali di una pubblica amministrazione, testi di atti ufficiali di una pubblica amministrazione rimangono esclusi. Ecco, sarebbe bastato invece che andare a toccare l'articolo 52 e fare questa sorta di accrocchio, di finzione giuridica per far finta che una licenza ci sia, sarebbe bastato andare ad aggiungere qualche riga all'articolo 5 della legge sul diritto d'autore, sostanzialmente dicendo che i dataset che le pubbliche amministrazioni sono comunque obbligate ad esporre, a pubblicare, perché hanno un onere giuridico, perché è la loro mission istituzionale, ricadano direttamente in pubblico dominio, così noi ci saremmo tolti molto, diciamo tutto questo problema della scelta corretta delle licenze per l'open data, dicendo questa cosa la stiamo, sia io che altri giuristi, la stiamo dicendo da un sacco di tempo, ma sembra che nessuno voglia ascoltare. Ho già sul mio blog, se volete andare a cercare, c'è già una proposta di testo di questo nuovo comma ad aggiungere all'articolo 5, ma ovviamente non credo che io verrò ascoltato, non ho purtroppo questo potere di arrivare alle sfere alte del legislatore. Però ecco, si sarebbe davvero potuto risolvere più facilmente il tema. E ricordo che se sono dati che, diciamo, la pubblica amministrazione obbligatoriamente deve esporre, non c'è un problema di copyright da un punto di vista anche economico, perché non ha minimamente senso che una pubblica amministrazione si ponga al problema del copyright, perché comunque non potrebbe creare una situazione di esclusiva e evitare che altri possano riutilizzare quel dato, perché comunque lei è obbligata ad esporlo, quindi non è in concorrenza con imprese che realizzano banche dati, che fanno data, quindi dobbiamo uscire da quell'ottica, da quella mentalità per cui la pubblica amministrazione è proprietaria di questi dati. In realtà è semplicemente una custode, raccoglie questi dati, ma in virtù di una norma giuridica che la obbliga a farlo e in nome per conto dei cittadini, quindi in realtà quel dato è già di per sé di tutti. Semplicemente c'è appunto questa incertezza sullo status di diritto d'autore che va chiarita, sarebbe meglio chiarirla con una licenza, in mancanza si potrebbe semplicemente dire che quel dato è di pubblico dominio, si può liberamente utilizzare perché lo dice la legge. Speriamo che prima o poi qualcuno voglia farlo.